E' partito con il piede giusto il Festival Settembre Prato e Spettacolo che animerà la città laniera con sette spettacoli di cui cinque in Piazza Duomo e due a Villa Guicciardini, il corteggio storico e il concerto della Camerata Strumentale, ma anche mostre, incontri e iniziative per bambini. E' toccato agli articolo 31 aprire la serie di concerti in Piazza Duomo, Il duo, composto dal rapper Jay Axe al secolo Alessandro Alleotti e dal produttore DJ Jed, Luca Pirrini, è uno dei gruppi più influenti della scena hip-hop del nostro paese e ha richiamato un pubblico numeroso e molto partecipe, composto sia da fan di vecchia data del duo, sia da giovani e giovanissimi. Il programma prosegue stasera con un doppio concerto che vedrà alternarsi sul palco di Piazza Duomo Daniele Silvestri e una delle voci più interessanti ed originali del panorama italiano, Bugo. Domani sera, invece, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone è andato sold out con largo anticipo. Sul palco di Piazza Duomo saliranno Giorgio Panariello e Marco Masini pronti a sfidarsi a colpi di battute e canzoni.